buongiorno ben ritrovati nelle nostre puntate sul piedi e le patologie annesse e oggi abbiamo il piacere di parlarvi del mal di schiena avete mai sofferto di mal di schiena avrete fatto fisioterapia tecar visite eccetera ma avete mai pensato che il vostro mal di schiena potrebbe anche dipendere esclusivamente dai vostri piedi dal modo in cui appoggiano dal modo in cui il camminano una domanda che vi invito a riflettere questa il vostro mal di schiena quando state fermi in piedi aumenta o il vostro mal di schiena quando camminate e camminate tanto aumenta se la risposta è sì a questi due quesiti è fondamentale fare una visita podiatrica perché perché la base del nostro corpo e quindi anche della schiena e proprio nei nostri piedi e se i piedi appoggiano male o sono diversi uno dall'altro o abbiamo una gamba più lunga dell'altro o abbiamo un ginocchio in un modo una parte un giochi nell'altro queste cosiddette assimmetrie non possono poi non influire sulla parte più alta che il bacino e il bacino è appoggiato la colonna è appoggiata proprio sul bacino ecco perché molti nostri pazienti che hanno tentato tutti i tipi di riabilitazione giustamente da fare a volte anche con ernie protusioni patologie conclamate con risonanze magnetiche inaspettatamente e improvvisamente perché la risposta è molto veloce semplicemente con una buona visita podiatrica con una buona progettazione di un plantare ortesico fatto su misura che equilibri e compensi tutte le alterazioni che ci sono nei piedi magicamente ma neanche troppo perché la natura è capace di aggiustare da sola un sacco di cose ridando equilibrio ai piedi e di conseguenza le ginocchia di conseguenza al bacino e alla schiena molte di queste patologie cosiddette dinamiche ortostatiche cioè in piedi possono sparire quindi il mio invito se non ci avete mai pensato se nessuno ve l'ha mai fatto notare invece di continuare a spendere soldi per trattare solo i sintomi cioè il dolore l'infiammazione vedete se troviamo insieme con un buono podiatra la causa di questi dolori e agendo sulla causa magicamente come vi dicevo prima vanno a sparire anche tutti gli effetti quindi